Rosa Maria Padovano, vicario della prefettura di Taranto, è stata nominata dal prefetto Martino commissario per la gestione provvisoria del comune di Pulsano. La richiesta era partita solo qualche giorno fa. L'insediamento, con molta probabilità, avverrà lunedì prossimo alla Padovano che commissario anche del comune di Leporano spetterà la normale amministrazione. Il commissariamento dell'ente, lo ricordiamo, si è reso necessario a seguito delle dimissioni irrevocabili presentate dal sindaco Lupoli e di due assessori, la terza e Marra, coinvolti da una bufera giudiziaria ancora in corso. Il commissario, designato alla guida dell'ente, dovrà risolvere in primis lo spinoso problema della mancata approvazione del bilancio preventivo 2022-2024, il cui termine era fissato il 31 marzo scorso, slittato al 31 maggio prossimo. Oltre ai problemi annosi di questa parte della provincia ionica, si va incontro all'estate, periodo in cui questa comunità si allarga notevolmente. Grazie a tutti.